maresciallo il bambino aveva sette anni e la madre era stata uccisa dall'ex convivente io ero un maresciallo dei carabinieri ed entrai per primo nella casa vidi il bambino che fissava il cadavere della madre tremando il mio lavoro mi aveva insegnato a non vedere solo quello che si vede e chiesi l'affidamento del bambino commento la richiesta di affidamento è un gesto avanzato del sentire